15 febbraio 2024, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, nella vigna del Signore sorgeranno buoni frutti? Il seme gettato nel passato porterà gioia ai lavoratori. Coraggio! La mano potente di Dio agirà e gli uccelli pericolosi cadranno. La vittoria di Dio verrà per la Sua vera Chiesa. Non perdetevi d'animo. Dopo tutta la tribolazione, vedrete le meraviglie del Signore. Non tiratevi indietro. Il mio Signore ha bisogno di voi. Cercate forze nel Vangelo e nell'Eucaristia. Chi ha con il Signore mai sperimenterà il peso della sconfitta. Avanti! Io pregherò il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico con il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.